Capolavori chiusi ormai da mesi nelle sale dei musei, il triste destino dell'arte in tempo di pandemia. Le mostre sono state segnate profondamente dall'emergenza sanitaria e a Padova farne le spese soprattutto un'esposizione di importanza internazionale, quella dedicata a Van Gogh e i colori della vita. Capolavori di inestimabile valore, chiusi al buio nelle sale del Centro Culturale San Gaetano, il curatore della mostra Marco Goldin per questo ha deciso di riaccendere le luci su queste opere private della loro funzione principale. quella di farsi ammirare. Lunedì sera alle 21 lo storico dell'arte trevigiano accenderà così i riflettori su sei quadri di Van Gogh raccontando altrettanti appassionati racconti sulla vita del maestro olandese. Una visita digitale visibile sul sito di Linea d'Ombra o sulla pagina Facebook. Al centro del racconto i dipinti, paesaggio al crepuscolo, autoritratto con cappello di feltro, il seminatore, il postino Joseph Roulin, il paesaggio a Saint-Rémy e il covone sotto un cielo nuvoloso. È una mostra che ha una sua storia, al di sotto ho parlato di andare sotto la pelle di Van Gogh, non soltanto la pelle della pittura ma anche sotto la pelle dell'uomo. Così ci diceva Goldin esattamente un anno fa a Otterlo in Olanda annunciando i capolavori in arrivo a Padova. «Nessuno ancora immaginava che potesse arrivare la pandemia. Ora le opere sono chiuse senza poter essere viste. Voglio tenere accesa una fiammella, sottolinea Goldin, e voglio continuare a parlare di pittura, a raccontarle, a scriverne e lo farò fin quando sarà possibile». Grazie.